Il professore Alberto Berardi vorrebbe vederla a Fano a far da fulcro per tutto il patrimonio storico e culturale della città. Stiamo parlando dell'atleta di Fano o atleta vittorioso o come la chiamano negli Stati Uniti il giovane vittorioso, ma per tutti è la statua dell'Isippo. Dopo l'annullamento della Corte di Cassazione e dell'ordinanza di confisca della statua bronzia per vizio procedurale, ritenendo nulle le udienze in Camera di Consiglio a Pesaro fatte a porte chiuse, ora tutto è punto e a capo. E per uscire dalle secche si riparte da zero per tentare di riportare in Italia una delle opere più importanti in assoluto e dal valore inestimabile, dato che la scuola dell'Isippo e quindi la statua stessa è il parametro di riferimento per tutte le opere scultore che ne seguiranno. A perorare la causa italiana nelle aule di giustizia è l'avvocato fanese Tristano Tonnini, intervistato appunto da noi questa mattina. Vicendo all'Isippo ci troviamo in questo momento in una fase dibattimentale in cui vengono sentiti testimoni richiesti dalla difesa del Ghetti. La prossima udienza è il 12 di ottobre, ci saranno altri testimoni, la settimana scorsa è stata la settimana scorsa in cui abbiamo sentito i primi testimoni e continueremo fin tanto che si esaurirà la lista dei testimoni citati. E coloro che cosa stanno tentando di dimostrare? La difesa del Ghetti sta tentando di dimostrare con questi testimoni la buona fede da parte del Ghetti nell'acquisto del Trust Ghetti, dell'acquisto della statua dell'Isippo, dell'Atleta di Fano. A mio avviso è un tentativo abbastanza improbabile dal momento che dal punto di vista documentale, documentazione, ci abbiamo oltretutto depositata dal Ghetti in quella che era stata la prima fase, quindi all'udienza del 2009, ci sono documenti che comprovano la mala fede, tant'è vero che il Ghetti personalmente non acquistò mai l'Isippo, la statua attribuita all'Isippo, ma venne acquistata dopo alla dipartita del Ghetti. Qual è la prospettiva in futuro, una volta che si sono ascoltati i testimoni, che cosa ci prospetta per Fano e per questa vicenda? Certamente noi confidiamo che venga confermata per un'altra volta ancora l'ordinanza di confisca, e poi da lì nasce tutta una nuova fase sperando che questa statua arrivi a Fano, in Italia, in primis e comunque a Fano.